Praxero, Praxer Tamara Praxero, Denkim Tamara Yunekin, Anami, Denkim, Anas, Redi, Valeri, Geri Praxer Tamara Praxero, Praxer Tamara Praxero, Denkim Tamara Praxero, Praxer Tamara Praxero, Denkim Tamara Praxero, Denkim Tamara Yunekin, Anami, Denkim, Anas, Redi, Valeri, Geri Praxero, Denkim Tamara Praxero, Praxer Tamara Praxero, Denkim Tamara Yunekin Tamara Yunekin Tamara Grazie a tutti. 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 ... 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 è piacere la srd se si è piacere la srd se si è piacere la srd quindi il sistema di asso una ma subsidiare la branco prez è stag nonno a branco prezzi è circa 60 srd nonno a paiti nonno a paiti nonno a paiti 60 srd nonno a la prezzi nonno a un prezzi lo so che non va questo è uno prezzi ma non ha paiti 60 srd nonno a paiti questo è 2020 adesso quando ho in 2020 ho in 2020 uno alla mondo 170 milioni srdi per ora nonno a paiti se stuca in half the professor, in half the engineer ma se si può capire il vero che in Valanti con 177 milioni pompe perché è stato pompe in una maggiore e attrazione è pompe ma ci sembra di statistica di ogni maggiore è inizia a morire ogni con quando si è inizia a una maggiore la maggiore è inizia a una maggiore senza un pompe per 5 anni è inizia a import per l'olio stagge perché è inizia a morire l'olio ma è inizia a smacchel a prez forse 20-20 per l'olio a prez per la Francia per la giaccia a prez per la Guiana per la giaccia per l'olio per l'olio smacchel ma è inizia a prez ma è inizia a prez ma è inizia a prez per la giaccia per la guiana ma fuori da l'acca mi tagli e lì da un post rotos ma gestione lì a folle a noi e smocker fusterana a dit è raffaele pire abdallah futura avoli avoli stars only and make enough a nazi ya collega taglia ollie hey sir a france only only a smoker having auto on this for that omit thank why the exagia Tappaprochi fuwe da boss Avi saranaprochi Omi wagi egza Na stalkers eifel Saan Wapete dena saranasi E smoker oli guwa fransi Omi oli e smoker Kande odenki Wano a fusa We cacombaka Tappaprochi fuwe Na rafu furu And the biggest smoker last Fa oli Des dola yun in a regering Saan Na rafu flora e smoker Na rafu kamawain e smoker Na rafu rangulala Kaya smoker Luko yun in a regering Want a minister Sa enlay oli yun wang de fist bottle Da e lai yun in a tank Waken fein Da e chari goseri Fou nai a fada Standard Miki lukuda a preside Mwad faya kontroler A oli mwad A pis sen yme tak ma daterer Tak mwpogia oli wang kleur A dissen wang kleur Da yun mokseng kiwa pad de stasyon Peiwa epilibisma Ma a monikaka O fa oli kata dissi Na fufur wa fufur baka Emo pwwesu takwa fufur baka Yuri siya ali ma difa Anak maka Kontak e mo hong So sa fuma ya kweki Yes donen li kya falak Tak yere no A na wakita wa epa poti falak Ye li man Yung pot Ye aga stag na Sandy wants to He li ka falak Bis dong Isa aming fea pay Ay sheng Sayadu Wadjoo nang nga Wadjoo nang nga To drifo ma Eteg pa sila ito Ine si tak yung bro Ko fea pay Nang ade dodo Sa sayadaki Yun nga nga Nang nga fang A traf furwa na pe Kung finansya A jodhia Inang magi Ato Tabde sa sami aksi Sa pormesal aksi Hindi hena O bigi kisma Ato Tabde sa dati Yoko lakoy tak Yabbe Sine is der What E nagsest Tak yabiki Laha falak Yabiki Tena falak Tak falak Balayung For her E kaya We help So kanang Honest Sifat Tak Milyo 100 tak tak Milyo 300 Milyo Kaya Sifat Sifat Sidica Iba Dihabba Stas Oli Wat Bedriven Muty Epo Ibo Tera Ss Ibo Tera Epo Tera Do Oli Bedriven Presidente attacchi for me in a sub only a full only you are be one million liter two million liter takanami o pot smatok na de brochi flukko ome tenke goto o pot na nikeri jasso na tapabrochi salamako ome olie e goto o ben aite wala aite mo de maf bide bezig een onderzoek lef van onderzoek stats olie lef van de maf stats olie dan ga de herkonsorten onderzoek alleen maar larikook vertellen jullie de mensen alleen maar larikook vertellen mensen van brukke pondo wij hebben cijfers we hebben documenten wat denk je dat we zomaar gaan geven wat president wat denk je dat je op een fantasy island woont je zet voor mensen te fantaseren je hebt ook wat gezegd toch maar wat vind je toch maar wat vind je dan dat je kan wel zo gaan zo on en man van telefoon en man van smartphone je bent de landbouw en smartphone dat doen we op een QR code en 6e man een biggie highlight en man van drie brok of fits dan man van teka monikata na man penne nummer dan man tenkei na wagi dan man popa oligoine en auto dan man dan man dan man dan man en man van ik hoor dan 5e dan kan dan 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 that . te Non, 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 non. Non, 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 non ... ma di un samba, sono dicono... ... ma che si chiede di solo a tutti i卒are, ... ma che lascia di un pozzo di tutti i su tutti i punti. Oh? No lo fattime alla loro spiegande. Noi a tutti gli altri spieghi. Smokkul. Perché il suo prez fu in Giaso, ...2020 per il SRD, il suo prez a la Francia Giaso, il suo prez a Guiana Giaso, ... quindi, ...le ho bastano gli occhi stato. Smokkul dappi. Il giorno è il giorno, è un milionario. ma non assandato wani e se vedi le stanno a oli 1 litre okona world mark price ma alla deman woi bescari sa apu wagi fogideng a oli moni carta so dat tog yo tang pai asref sani ma a smoke la stop ma if a smoke a stop da a fufu a oli a osaka a fufu a oli a osaka they have minder da la fano a tui jasana demasai roko go to they might buy bunko poli they might go roko go to ma go to na amer a 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 . . . . l'isica il casita ma lista nata assomali via amana sasso vettacchi metà ma wakana del rastora luco a me ronaldsma egba nyang di de famiglia forse de bray luco me famiglia di jano no day c'est di donna la stagia mettici un restaurant del poter mita cruz d'appare la resma for flora non c'è l'espoirà la tour a con le coup a con le promesse margama c'est il faut farfaire c'est est prêt à monnaie perte maïda resta un drink de sophie il con le coup la pietra si le président né maïs d'orta pour tout santa per conférenciato il ya la facoltà la santa conférence et offre a perci o fanno a fare lì cietta o file top radio no messa mi no ora la dislla una speciale cosa fa di sì top i neri monica da coloco sarà vera inizia da l'eco avreca news slm che non mi chiuso, non mi chiuso, non mi chiuso, ma non è tanto per SLM, ma non è solo per solo una SLM, ma non è ancora con una live fliegazione che è stato sottotitato, che è stato anche qua, come si è stato una SLM con una nuova Dreamliner, con un capitano come capta, si è sicuro ma barbara new kissy messa slm è soffi di usare a ma barbara dream linea metas capitan bisessor per l'anima di smoltà pomeriggio noi chissà live musica è l'abbara e l'abbacca what it is with a vacca i cani melda sempre for the standby lobby i see that what test is for a live boy e poi la ma questo Presidente ha detto che con un paio graffermakers in Suriname Presidente tu lascia tutto tu non ti traccia tutti i VAP 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 il VAP tutti i VAP tutti i VAP tutti i VAP tutti i VAP e anche la nati con una grande di VAP 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 Grazie a tutti.